Un cantiere di due giorni nel tratto carrabile di Corso Trento e Trieste per realizzare uno scavo profondo, un metro. Al lavoro ci sono gli operai del settore lavori pubblici del comune di Lanciano, che preparano il luogo in cui una ditta specializzata posizionerà dei sensori per il monitoraggio continuo dell'area, interessata nell'estate 2018 da cedimenti del sottosuolo. Gli strumenti saranno forniti e installati dalla SISGEO, la stessa azienda di monitoraggio geotecnico e strutturale, che ha fornito e installato i sensori sugli immobili prospicenti il Corso. Sono lavori utili e fondamentali per la sicurezza delle persone e degli edifici, sottolinea il Vice Sindaco Giacinto Verna. Stiamo scavando quindi una trincea da marcia a piede a marcia a piede, circa 50-60 cm di larghezza per 50-60 cm di profondità. All'interno di questa trincea verrà collocato un particolare tubo, all'interno del quale verranno messi ulteriori sensori, i quali, anche insieme a quelli già predisposti l'estate scorsa, nei prossimi mesi serviranno a darci delle risposte tecniche e scientifiche su cosa avviene e quali sono i potenziali movimenti anche del sottosuolo. Questo sempre e soltanto a garanzia della incolumità delle persone della stessa città. All'esito delle risposte che nei prossimi mesi verranno date da questi sensori, noi probabilmente, anzi dico quasi sicuramente, riusciremo anche a elaborare una progettualità specifica e adatta per provare a risanare quella che è la problematica del sottosuolo della parte bassa di Corso Trento e Trieste.